Prima di continuare, ti invito a iscriverti al canale e lasciare un mi piace, grazie. Andrea Giambruno, da elegante first gentleman italiano immortalato dietro le quinte della prima della scala, si ritrova improvvisamente al centro di uno scandalo che lo ha portato dallo sfarzo alla sospensione. Questo rapido declino ha sorpreso molti, tranne i colleghi di Mediaset, che lo descrivono come smargiasso e talvolta ingenuo, sottolineando l'errore di affidargli una conduzione indiretta. Le voci di corridoio negli uffici di Mediaset si fanno sempre più intense, con una collega che, coinvolta in fuori onda, cerca di occultare il suo numero. Leggende su Giambruno si diffondono, suggerendo un legame con Lele Mora e persino una presunta partecipazione come driver per l'agente televisivo senza patente. La storia prende una piega più oscura quando emergono i collegamenti del passato di Giambruno con il caso Ruby. Sebbene non sia mai stato indagato, i tabulati telefonici di 13 anni fa mostrano una decina di contatti con Lele Mora nel luglio del 2010. Un passato in ombra che si svela solo ora. Andrea Salvatore Giambruno, giornalista pubblicista dal 2014. È cresciuto tra Milano e la provincia di Monza, oscillando tra il desiderio di emergere televisivamente e l'anonimato. La sua esperienza ha attraversato programmi come Quinta Colonna, Matrix, e Tgcom24, ma la sua ascesa non è stata priva di critiche. Culminando in una sospensione dopo una serie di scivoloni in diretta. Il percorso di Giambruno, dalla rubrica Segretissimo al ruolo di conduttore, ha avuto alti e bassi. Con episodi come le pubbliche scuse del direttore Franco Becchis per errori in una rubrica che hanno coinvolto anche Matteo Salvini. Il suo destino ora pende in bilico, mentre il pubblico si interroga sulla sua futura carriera e sulla verità dietro questo repentino declino.